Per celebrare il quinto centenario della nascita di Cosimo I dei Medici, le Gallerie degli Uffizi offrono ai visitatori tre esposizioni che metteranno in mostra dipinti, incisioni, abiti e l'armatura dello stesso Principe dei Medici. La prima rassegna, 100 Lanzi per il Principe, è dedicata alla Guardia Tedesca dei Medici, la Guardia dei Lanzi, come veniva chiamata in vernacolo fiorentino, composta dai caratteristici alla Bardieri in Livrea. Questa mostra la prima di tre dedicata a Cosimo I dei Medici, è dedicata ai Lanzi e Cnecchi, a questi soldati, le guardie chiamate dall'estero proprio per essere neutri, per non essere mescolati in tutti i conflitti delle grandi famiglie fiorentine, ma è una storia non soltanto militare, una storia sociale, una storia europea, ma soprattutto una storia della città di Firenze. L'esposizione ripercorre la storia di questa milizia sotto vari aspetti, sociale, culturale, militare, in quattro sezioni con oltre 90 opere che ne raccontano l'istituzione e la storia, senza tralasciare l'impatto che ebbe sulla vita cittadina. Anche se le ragioni per la costituzione della Guardia Medicia sono ragioni politiche, diplomatiche, il legame di Firenze con l'impero, diciamo che l'ispirazione, l'episodio che fa nascere la Guardia è un episodio di corte, in cui durante una partita a Briscola la Duchessa Eleonora, che è una grande giocatrice di carte, stava giocando a carte con il capitano della Guardia, che all'epoca era una guardia italiana, che Cosimo aveva ereditato dal suo predecessore Alessandro, e il capitano, che era Pirro Colonna, sta perdendo, è sotto di 25 scudi, perde la calma e dà la colpa al nano, a un nano di corte che era lì vicino, di portargli sfortuna e incomincia a picchiarlo. Il nano era sotto la protezione della Duchessa e questo costituì un atto, un'offesa diretta all'onore della Duchessa, che si arrabbiò moltissimo. e da lì inizia la caduta in disgrazia della Guardia italiana con il suo capitano, che di lì a poche settimane sarebbe stata congedata per fare posto alla Guardia tedesca, che sarebbe rimasta a servizio dei medici per 200 anni. Le altre due rassegne dedicate a Cosimo I sono entrambe ospitate a Palazzo Pitti fino al 29 settembre. L'esposizione è una biografia tessuta, gli arazzi seicenteschi in onore di Cosimo I, mette in mostra nove maestosi arazzi in lana e seta che raccontano i momenti salienti del governo del primo Granduca Medici, un escurso sulla figura e sull'opera del sovrano, che esalta la centralità del ruolo di Cosimo nel governo della Toscana. La protagonista dell'ultima mostra, dedicata al cinquecentenario della nascita di Cosimo I, è la statua del villano con la botticella, realizzata da Giovanni Di Paolo Fancelli per il Giardino del Granduca. La rassegna rende omaggio al restauro, che ha donato nuova vita alla prima statua di Boboli, liberandola dal muschi, alghe, licheni, funghi e dal calcare accumulatosi negli anni con la pioggia.